Nella trilogia del mito Pirandello cerca di dare una risposta alle grandi domande dell'uomo sulla verità, nell'ambito socio-politico, nella nuova colonia del 1928, nell'ambito religioso, nell'Azzaro del 1928, messo in scena poi nel 1929, e poi nei Giganti della Montagna del 1936, terminati però poi dopo la morte di Luigi Pirandello dal figlio Stefano. Nell'Azzaro Pirandello spiega che la risposta al dissidio dell'animo umano, così come è presentato in termini cristiano-giudaici e così come compare in tutta la sua produzione letteraria, può essere sanato soltanto da Cristo, carità, soltanto da quell'amore che può tenere assieme tutto. Così come vedrà Dante nel canto trentatresimo del Paradiso, dove dice che nel suo profondo vedi che si interna legato con amore in un suo volume ciò che per l'un diverso si squaderma. L'amore di Dio può tenere assieme tutto ciò che è squadernato. All'interno del dramma Lazzaro, Pirandello racconta di Diego Spina, che ha sempre vissuto la fede in maniera moralistica e ha sempre vissuto per l'aldilà, tanto che ha mandato in seminario il figlio Lucio alla tenera età di sei anni. Quando però Lucio diventa maggiorenne, persa la fede, decide di ritornare a casa. Intanto il padre Diego non è più assieme a Sara, che ha deciso di convolare ad un nuovo connubio con Arca di Pane, che era il fattore della tenuta. E quando Lucio torna a casa, Diego Spina va in crisi e decide di uccidersi, gettandosi sotto un'automobile. La morte viene certificata da due medici, ma Lucio prega sul cadavere del padre, il quale recupera la vita. Però non avendo visto nulla nell'aldilà, o non ricordandosi nulla di quanto ci fosse nell'aldilà, Diego Spina perde la fede, mentre Lucio recupera la fede, perché ha visto ritornare in vita il padre. Intanto Diego decide di andare ad Arca di Pane e di ucciderlo, perché, come dice Dostoevsky, se Dio non c'è, tutto è permesso. Così Diego spara ad Arca di Pane, ma lo ferisce soltanto lievemente. A questo punto Lucio spiega al padre che il senso nella vita, il senso di quanto è accaduto, è quello di vivere pienamente già l'aldi qua, nella fede. Il senso è quello di dare la speranza a chi la speranza non ha più, di ridare le ali a chi ha perso le ali. E questo è possibile soltanto nell'amore di Cristo carità. Perché? Perché la carità è la legge della realtà e nel contempo è anche la legge dell'io, è la legge del cuore. E soltanto quando la legge del cuore si adegua, si conforma a quella che è la legge dell'essere, la legge della realtà, il cuore può trovare quella felicità piena a cui lui aspira. Ed ecco che Lucio decide anche di pregare per la sorellina Alia che era paralitica. E Alia, per miracolo, riprende a camminare. Nella intervista a Carlo Cavicchioli del 1936, pochi mesi prima di morire, Pirandello spiegò che nel Lazzaro aveva dato la risposta al dissidio fondamentale dell'animo umano, che è lacerato e frammentato in diecimila pezzi. Soltanto in Cristo carità questo dissidio può essere sanato. Nella stessa intervista, Pirandello disse che era contento che civiltà cattolica non avesse trovato nulla da ridire sulla ortodossia di tutta la sua produzione. E nel contempo asserì il fondamentale principio che l'arte deve essere sempre e totalmente libera. Principio ancor più fondamentale da asserire in quel contesto in cui avevamo il regime fascista in Italia e il nazismo in Germania. Libertà dell'io e libertà dell'arte.